E' equilibrato, abbiamo fatto 24 punti, penso un buon bottino, abbiamo raccolto più punti con le squadre che sono solo di noi, quindi questo vuol dire che quando giochiamo con le grandi squadre ci salviamo, invece abbiamo ottenuto pochi punti con le squadre sotto, quindi c'è da equilibrare questo passo, però siamo tutti spatti di come stiamo andando.